Prima di diventare... Rockstar pronte a spaccare tutto! Uno, due e un, due, tre! O impeccabili maestri di karate? Com'era questa insolita famiglia? Boy, Dog e Mouse, vi presento Girl, Cheese e Cat! Scopriamolo insieme con la nuova stagione in prima TV assoluta di... Boy, Girl, Dog, Cat, Mouse, Cheese! Da lunedì a venerdì alle 16.40, solo su Thea Kids! Scopriamolo insieme con la nuova stagione in prima TV assoluta di... ...dana...